Elezioni europee con al centro il rapporto tra il voto che ha rinnovato l'Europarlamento e gli equilibri politici di Roma e le elezioni amministrative locali che in Valdardo e in provincia di Arezzo hanno confermato una serie di primi cittadini con alcune sorprese che hanno mutato la geografia politica della vallata. Sulla coppia di argomenti sentiamo il commento della sindaco di Montevarchi, Silvia Chiassai Martini. Ma allora sicuramente il centro d'essere è uscito forte, ancora più forte di prima perché al di là poi delle percentuali dei singoli partiti è rimasto appunto, è cresciuto e sicuramente la posizione che porterà appunto Giorgio Ambiloni, il nostro presidente del Consiglio e quindi il nostro paese in Europa sarà una posizione particolarmente forte visto anche i grandi cambiamenti che ci sono stati in Francia, in Germania e in altri paesi che vanno tutte nella direzione appunto del centro-destra. Quindi per noi sono elezioni importanti, di grandi risultati anche nella provincia di Arezzo sicuramente la vallata dove invece le percentuali sono più alte legate al PD è sicuramente il Valdarno-Aretino ma abbiamo visto anche a seguito delle elezioni amministrative che è possibile vincere anche in un territorio rosso come il nostro al di là appunto dei voti europei perché poi sono le persone che fanno la differenza. Come è successo nel 2016 quando per la prima volta si vinse a Montevarchi quando Renzi era l'europea al 40% qui a Montevarchi noi riuscimmo comunque a voltare pagina. Questo dimostra che le elezioni comunali sono molto diverse da quelle nazionali a quelle appunto europee dove la persona, quindi la credibilità e la fiducia che si ha verso il candidato può portare anche a dei cambi storici importanti come c'è stato per esempio a loro Chuffin. anzi colgo l'occasione di fare gli auguri ad Andrea Rossi perché sarà una bella sfida una sfida impegnativa perché quando si entra in un comune dopo decenni di una governance monocolore qualunque essa sia sicuramente ci sarà bisogno di riorganizzare tante cose la macchina amministrativa e di intavolare una prospettiva di sviluppo della propria città in maniera diversa sicuramente con un approccio differente. Quindi buon lavoro a lui e devo dire che queste elezioni comunque riuscendo a strappare i due comuni alla sinistra anche in Baldano hanno portato degli ottimi risultati. Quello che conta è continuare adesso ad amministrare bene perché giustamente i cittadini sono anche pronti a cambiare appartenenza politica nelle amministrative se però siano quantità e credibili che poi dimostrano di lavorare bene, di lavorare nell'unico e esclusivo interesse che è quello dei cittadini della città che amministra.